Abbiamo questo workshop in cui discuteremo con varie opinioni su questo tema dell'educazione finanziaria e non solo dell'educazione finanziaria. Come ci diceva il Presidente Ficciolini, noi come Centro di Diritto del Consumo abbiamo fatto due anni fa un rapporto relativo ai modelli europei sull'educazione finanziaria. Da questo rapporto sono emersi alcuni stimoli che nel rapporto dell'Avvocato Cacciarelli sono stati ripresi e la ringrazio che mi limito a riportare per introdurre la discussione. Il primo stimolo si riferisce all'individuazione dell'approccio con cui il consumatore o l'investitore affronta i temi del rischio e dell'investimento in generale. Normalmente l'approccio che viene sviluppato è un approccio di economia classica che individua il consumatore come soggetto razionale che alloca efficacemente le risorse e che quindi sulla base della propria consapevolezza fa funzionare le regole del mercato. in realtà l'economia comportamentale ci dice che spesso il consumatore comette errori, spesso il consumatore è inconsapevole dei rischi, ha situazioni di avversione al rischio oppure di overconfidence e quindi cade nel sovraindebitamento e in una situazione di crisi economica questo sta diventando particolarmente pericoloso e poi il legislatore europeo ha cercato di sopperire a questa esigenza imponendo anche al operatore finanziario il compito di monitorare la valutazione del rischio, in particolare per l'investitore non professionale, noi sappiamo tutti che la direttiva Mifid impone al funzionario di istituto finanziario una valutazione sull'attendività delle informazioni che vengono date e anche una valutazione sulla meritevolezza del credito e sul rischio di riferimento. Qua sorda però un problema abbastanza importante e cioè un problema di informazione, soprattutto di informazione non soltanto del consumatore ma anche dell'operatore finanziario perché molti strumenti innovativi sono estremamente complessi articolati e quindi qua il problema è un problema di formazione di carattere generale. Il secondo elemento che è emerso io preferisco parlare di formazione anziché di educazione finanziaria, educazione finanziaria è la traduzione financial education e individuarla a tre livelli, seguendo un pochettino il modello austriaco che ha individuato un po' provocatoriamente tre patenti finanziarie. Un livello di istruzione che è il livello dei giovani, quindi nelle scuole, che è una specie di alfabetizzazione di carattere economico finanziario che è importante per il giovane che gestisce e gestirà il proprio budget ma anche per la famiglia perché abbiamo visto che nell'educazione sanitaria l'educazione dei giovani poi estinge sulla famiglia. Il secondo livello è il livello di educazione nella famiglia stessa con riferimento alla gestione del budget. Qua il problema è più delicato perché non si tratta soltanto di informare ma anche di abituare alla gestione finanziaria, quindi è una sorta di learning by doing ed è uno strumento che è più agevole sviluppare attraverso associazioni di volontariato, dei consumatori e quant'altro che possono educare soprattutto le famiglie poco acculturate o con grosse difficoltà di gestione del budget a prevedere ipotesi di rischio. E poi c'è il terzo livello che è il livello degli investitori non particolarmente specializzati che io definirei un livello di aggiornamento finanziario sui nuovi prodotti e sui nuovi servizi, questo per consentire anche quando l'investitore si presenta in banca di conoscere il livello di informazione che il cliente ha su determinati prodotti e determinati servizi. Terzo elemento che è emerso sono i modelli di tipo europeo che sono abbastanza variegati e che noi abbiamo sintetizzato sotto tre profili, un modello di autocorvinamento degli operatori economici che è il modello che si sviluppa naturalmente e normalmente quando più soggetti che possono essere operazioni di finanziare, che possono essere le scuole, che possono essere le istituzioni pubbliche operano nel mercato e si auto coordinano volgendo attività di tipo diversificato e quando è avvenuto per esempio in Germania per numerosi anni senza un coordinamento di carattere generale. Poi ci sono situazioni invece di indirizzo centralizzato in cui vi è un soggetto, per esempio in Inghilterra, per esempio in Francia, che coordina l'attività a livello nazionale e evidentemente ci mette anche le risorse per coordinare questo tipo di attività. E poi un terzo livello che abbiamo visto emergere nei paesi federali, in particolare in Austria e che potrebbe funzionare anche in Italia, di coordinamento nell'ottica della sussidiarietà. Cioè un coordinamento a livello nazionale, qualcuno lo chiama cabina di regia, in cui tutti i soggetti individuano chi fa cosa e come opera e poi le regioni, i soggetti locali sviluppano l'attività a livello decentrato. Un modello quindi misto che non impone un unico progetto ma coordina i progetti esistenti. modelli diversi, modelli variegati, tutti legati alla necessità oggi ridente di dare all'educazione finanziaria un ruolo strategico. Perché il problema di fondo, soprattutto dopo la crisi economica, è quello della mancanza o ridotta fiducia dell'investitore e quindi la capacità di recuperare attraverso una corretta formazione un'educazione e una consapevolezza dei rischi e dall'altra parte delle opportunità per l'operatore in quanto tanto. Restavano e restano altri aspetti operativi. Il problema dei contenuti, il problema delle modalità didattiche e il problema dei finanziamenti. E qua devo dire che l'Avvocato Cocciarelli ha raccolto parecchi materiali e ci ha dato delle indicazioni interessanti e significative. Ecco perché ritengo opportuno sviluppare questi aspetti per poter individuare i punti di riferimento particolarmente significativi. Io mi fermerei qua, lascerei per una decina di minuti all'Avvocato Cocciarelli di presentare il suo rapporto che credo tutti gli hanno ricevuto e quindi siete in grado di fare prego. Grazie. Grazie.